Bleh, 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 bleh Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Quello che state per vedere Sarà un video che ho registrato ieri sera Dove stavo giocando con dei miei amici di Discord Intanto li saluto tutti perchè tanto lo so che allora andrete a vedere molti stronzi Elle è il più stronzo più aveva elle ballardo Spero che vi piaccia il video Buona visione Mi raccomando like e commento E iscrivetevi al canale Bella Ragazzi guardate, guardate che spray che ho con Reinhardt Te qua in middle perchè Eccoci, eccoci Che spray hai? Ci stiamo riunendo Puttana, ce l'hai solo te credo questa Ma è esclusivo? Lo l'hai preso con un achievement Si, te lo danno quando fai il canestro Ah si, si capisco E poi spray che non l'ho visto Eh qui, è qui, prego Prego mi seguo, mi seguo Mi seguo Chi è che l'ha pulito? Ah! Oh, è stato ragazzi Venite su Che cazzo ci fai lassù? C'era che diva senza dirlo Che coglione Sto aspettando solo che mi grabbi quel cinghiale Oddio Mi seguo Willy Cosa che fai? Mettimi il muro sotto il culo Competitiva E' competitiva ma contro il computer Ma l'hai messo easy il computer Beh tanto perdiamo lo stesso Non è un problema Raga metto un muro così non ci vedono chi siamo Basta spegnere il monitor Zepp Per non far vedere che inviamo Basta staccare corrente Qual è il counter di tracer A parte i cecchini? Beh lì Ma ho visto nel cazzo Io non riesco a shotarla con Basta shotarla con una freccia negli occhi Ma chi sai Ma chi sai? Ma buca Uuuu l'ho uccisa Uuuu un altro Oh ragazzi possiamo fare anche la sigla di Futurama da fuori così Si da qui riesco a farla Siamo sfavoriti eh Raga fate notare i lampadari ci da il trofeo Perché io non li vedo i lampadari di merda Ma come no? Perché non li vedi i pezzi del gioco basta Ma c'è solo questo qua grosso in mezzo Ma va la No no Oh porca troia vi mando foto Ma sei sicuro di averlo scaricato tu quel gioco? Oh Cazzo di ci sono questi qua attaccati Porca troia non ci sono Oh Non ci credo Non vedi neanche le siepi Che c***o c'è avvantaggiato Mi mando foto Mi ha mandato foto È vero Non li ha Ma che cosa? I lampadari Perché? Boh Dicevo qua che Non ha pagato prezzo pieno quel gioco Avrò il setting se non mostrare i lampadari C'è una cecchina qua su c'è un anzo Dove sei Ale? Eh Sono quasi morto Eh ho visto Eh madonna Lì sopra un anzo C'è un bastion qua Dove? BAM Puttana che è morto Anzo sta arrivando Cosa fai me di dirlo? C'è un torbio Non so dove ha messo la torre Anzo l'ha messo Ok l'ha messo L'ha messo L'ha messo L'ha messo Mi ha ucciso Chi ha che spara da dietro? C'è la torretta sull'ascensore Anzo è morto Loretta sull'ascensore Stiamo? Sull'ascensore Dove? Sull'ascensore Arrivo io a sparare di rimbalzo ragazzi Lui li rimbalza lì solo come tu sei lo sai fare Lui li bustami il danno Bustami il danno Serve una cura È morto bastion? No Aspetta che vado a prendere Aspetta No si è ritannato nella casa Aspetta che... Fammi pullare qua Calda madonna Eccolo l'ho visto Davo il resto Aspetta che vado a curare un attimo Oh La torretta C'è la torretta nella porta L'ho distrutta Servato sul balconcino Ragazzi bastione torretta son giù Torretta ancora su Io Maledetta torretta Dove l'ha rimesso? Fork troia Luca dentro di merda figli Tutto la ultima in mezzo ragazzi ci siete Allora ragazzi Io adesso con la bomba in buca Distruggo la torretta di Pokemon C'è bastion bastion là in alto Distruggetelo Ok Dai dai ora Rusci Ma vaffanculo Bomba in buca Dove è la torretta? Nooo Anzo è morto Anzo è morto Torre distrutta Survey link Healing 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 Eh sono morto arrivo Vabbè tanto c'è il resto C'è bastion nella ulti Veda madonna Bello Nooo Bello Che faccia di merda che sono Dai raga tenete le punte Tenete le doppie punte E io sono belato Bello bello Mi è piaciuto sto resto Go 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 Dai rushi rush 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 B Sempre la concentrazione Oh camion però raga Vai vai fagli il giro ti potenzio È sopra è sopra è sopra Sono lì sono lì Tieni scudo Tieni scudo Tieni scudo la madre Vai lì grande Ah eri dietro scudo Sì sì Ti stavo potenziando Curatemi 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 Dove sei io? Arrivo Sì Sì Nooo Non riesco a te Nooo Perché ho fatto bomba C'ho la ulti C'ho la ulti C'ho la ulti No 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 c'è Zaria dietro C'è Zaria dietro Se devi full la vita al massimo e ti vai contro o ce la fai? Sì Vai 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 Cazzo la Mei che mi ha consigliato Bella roba Nooo Dai raga rushi rush rush Non posso far niente Non posso far niente No cazzo di Mei Cazzo Ma baffanculo Dai dobbiamo far meglio Non era male Figa Dai raga siamo 1 a 0 Mamma mia in live Si mette a posto la webcam Webcam nuova Attenzione Logitech C920 Andatevela a shoppare tutti su Amazon Perché Chi non compra da Amazon Lezzo E niente si conclude qui la prima parte del video Quindi In seguito sul canale ne troverete sempre un altro Iscrivetevi al canale Like Condivisioni a male Oh Bella raga